buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce sono mister nichilista oggi il 25 aprile la festa della liberazione qualcuno la chiama la festa della libertà io voglio dirvi innanzitutto che sono ben contento di vivere in un paese democratico sono ben contento di non vivere soffocato da un regime e sono ben contento di non aver vissuto gli anni del ventennio e dell'occupazione tedesca quello che però mi fa specie è il fatto che molti di coloro che oggi si dichiarano antifascisti magari antifascisti militanti all'epoca erano invece fascisti deve venga cambiare idea meglio tardi che mai però credo anche che sia importante a rendersi conto del marciume del proprio tempo anche in quel momento non solo dopo decenni però come dicevo meglio tardi che mai dico questo perché è bello che oggi in italia in europa in occidente ci sia la democrazia è bello che non ci sia il partito unico che ci sia sicuramente una maggiore libertà di stampa rispetto a certe detture del passato e rispetto anche a certe realtà odierne però è pericoloso quando ci si sente liberi solamente perché non ci sono le catene o perché c'è il parlamento quella è la precondizione è un po come dire per fare un parallelismo benvenga avere cibo benvenga avere un tetto e non essere debilitato dai morsi della fame quindi benvenga avere quello che ti serve per sopravvivere però non basta questo un genitore ad esempio per potersi proclamare un buon genitore buon padre una buona madre possono limitarsi a dare da mangiare il figlio allattarlo dagli il tetto mandarlo a scuola quella è proprio la minima condizione poi viene quello che davvero è educare dare da amare il figlio dai da mangiare non fargli mancare niente dal punto di vista materiale è praticamente nulla rispetto a quello che conta veramente traslando questa considerazione alla tematica di cui voglio parlare oggi il fatto che ci sia la possibilità di esprimersi non ci sia la repressione ci sia il parlamento ci sia una sorta di rappresentanza per quanto piena di difetti è la precondizione poi la libertà dovrebbe diventare un qualcosa di più effettivo e di più sostanziale come si fa oggigiorno a parare di libertà quando le persone fin da quando sono piccole sono costrette a seguire il copione a seguire le mode altrimenti altrimenti vengono sminuite giudicate denigrate è vero non vengono imprigionate effettivamente una libertà di fare quello che vuole non è che se non fai quello che gli altri ti dicono o se non fai quello che gli altri fanno viene incarcerato vieni condannato da lo stato dalle istituzioni da dei tiranni no però c'è una condanna che anche se non sembra tale però è più subdola perché non sembra appunto tale ma poi finisce per condizionare in una maniera soffocante e questo è il motivo per cui le persone si comportano nella media tutte allo stesso modo cambio di dettagli ma poi se tu guardi tutti gli stessi comportamenti tutti gli stessi valori tutti gli stessi sogni tutte le stesse ambizioni che libertà è la libertà in cui l'individuo è annichilito completamente e c'è un unico grande copione in cui la vita non è nient'altro che una messa in scena di teatranti e attori che a furia di indossare maschere non sanno nemmeno più qual è la verità e qual è la menzogna credo che una cosa fondamentale per il benessere quello vero però non quello solo materiale la cosa fondamentale sia l'autenticità e questo non è un mondo anche quello nostro democratico occidentale non è un mondo che ci sprona l'autenticità è un mondo che ci schiavizza e questo non è per esaltare altre realtà non occidentali nelle altre realtà non occidentali rispetto a quello di cui sto parlando non c'è niente di meglio e in più sono violati quelli che da noi sono diritti indiscutibili quindi io non esalto alcuna alta realtà al dia dell'italia al dia dell'occidente e lo dico perché non mi piacciono quelli che condannano questo sistema italiano europeo occidentale se la prendono con bruxello con gli stati uniti e poi magari difendono o giustificano la realtà che da tutti i punti di vista sono molto più aberranti però bisognerebbe davvero dare più spazio a quello che serve alla persona farò un paio di considerazioni senza dilungarmi troppo partiamo da quella che è la più piccola istituzione chiamiamola così la famiglia no che è determinante no è molto importante per quello che sarà il futuro no che sarà l'uomo adulto e quindi l'insieme degli uomini adulti genitori di che cosa si preoccupano quando si interessano i loro figli a parte hai mangiato ti sei messo la sciarpetta si preoccupano è studiato vai bene a scuola guarda che ora a una certa età o studio lavori come va il lavoro quanto guadagni e poco più sono orgogliosi dei propri figli io parlo della media e poi sono le eccezioni ma la media va in questa direzione ci si preoccupa dei propri figli in termini di mio figlio è un figlio di successo mio figlio mio figlio si dà da fare nel senso che guarda quanto lavora guarda quanto studia non è mica una scanza fatica quando la cosa primaria di cui ci si dovrebbe interessare è questa mio figlio è una brava persona quella è la cosa che conta tutto il resto ci può anche essere attenzione un successo materiale un impegno in un campo ma è niente rispetto a una brava persona può anche non aver lavorato neanche un giorno della propria vita può anche aver preso tutti i quattro a scuola neanche diplomato neanche alla licenza media però c'è una brava persona ti devi sentire orgoglioso di tuo figlio e devi dire ho fatto un ottimo lavoro sono contento e fanno ovviamente percepire al figlio cosa vuol dire essere una brava persona mio figlio è rispettoso degli altri poi non sarà un essere perfetto la perfezione in tal senso non esiste però il più delle volte fate tutto per rispettare gli altri è gentile non è arrogante è sincero non è giudicante è dolce d'animo questo vale tutto il resto è talmente superfluo che assurdo anche solo parlarne eppure abbiamo in un mondo in cui queste robe qui che sto esaltando sono messe all'ultimo posto anzi la maggior parte i genitori preferiscono un figlio poco empatico arrogante che magari non tratta bene gli altri la fidanzata o il fidanzato però beh guarda come si è da fare a scuola guarda che lavoro che ha è una persona di successo sia qualche difettuccio tuo figlio diventa manager guadagna un milione di euro al mese diventa anche presente al repubblico premio nobel però a scarso rispetto una persona che giudica gli altri dovresti essere triste dovessi chiedere dove ho fallito dovessi giudicarlo chiaramente disprezzare tuo figlio perché ogni essere umano deve essere considerato tale e anche quando si va nella direzione di non comportarsi bene non ci vuole la distruttività né di se stessi né degli altri però fa riflettere la famiglia no parliamo quindi di esseri che hanno messo al mondo gli altri esseri le persone più vicine non sono in grado di capire quello che veramente conta e quindi condizionano nella direzione non di ciò che davvero è bello ma della superficialità e quindi neanche promuovono davvero il figlio il figlio si deve adeguare perché alla fine cos'è il successo quello che per gli altri è successo quindi si promuove e qui il conformismo oltre che i falsi e i non valori ritenuti valori abbiamo in un mondo in cui la scuola di cosa si preoccupa solo di inculcare nozioni e non dico che la nozione sia negativa però un po' poco occuparsi di nozionismo occorrebbe aiutare a tirar fuori i talenti le peculiarità individuali e soprattutto la scuola dovrebbe avere come missione anche per aiutare famiglie spesso carenti dovrebbe avere come missione cerco di tirare fuori da te il meglio per diventare compiutamente una persona la scuola dovrebbe avere il compito di educare a diventare buone persone capace di amare e capaci di riflettere il senso critico dovrebbe essere incentivato ma anche educazione ai sentimenti educazione all'empatia non c'è traccia cosa fa la scuola quando va bene ti introduce nel mondo del lavoro alternanza scuola lavoro fatta malissimo tra l'altro quindi inseriti in un sistema non è un po' poco io sto dicendo che debba essere eliminata la componente che chiamiamo materiale paese si regge anche sui mestieri su questioni come chi si occupa di questo che si occupa di quest'altro le tasse ma solo questo e la persona dov'è i suoi sentimenti dove sono e allora in un contesto del genere parlare di libertà è un po' paradossale sogno un mondo dove la libertà si è intesa in maniera più seria qualcuno mi potrebbe dire ma tu non sei colui che dice che il libero arbitrio non esiste ma libero arbitrio è un'altra cosa non confondiamo il libero arbitrio con la libertà il libero arbitrio è quel qualcosa che sta dietro tutto ciò che c'è e tutto ciò che si fa cioè io scelgo una terminata via ma è davvero una scelta figlia di un libero arbitrio o ci sono condizionamenti i condizionamenti ci sono assolutamente il libero arbitrio e considerando che noi siamo figli fino a prova contraria della materia anche noi probabilmente anzi sicuramente rispondiamo a leggi della materia e quindi come la forza di gravità ha delle ragioni fisiche così come il ghiaccio si scioglie per delle leggi ben precise è difficile che l'essere umano figlia della materia sfuga queste leggi e quindi io credo che il determinismo abbia molto senso come concetto anche perché ad oggi non è stato provato che esista il libero arbitrio però questo non ha strettamente a che vedere con la libertà nel senso che è possibile che una persona ad esempio viva una vita il più possibile autentica in linea con ciò che davvero si sente e si vuole e non in linea con quello che è il sistema quello che gli altri vogliono esistono persone che vivono schiave del sistema omologate e magari non lo sanno neanche esistono persone invece più anticonformiste quindi esistono persone più libero o meno libero in questo senso il discorso del libero arbitrio è che chi riesce ad essere nella libertà nella più autentica libertà non è che è in quella libertà perché l'ha scelto perché altrimenti sarebbe come dire che quello che vive inautenticamente ha scelto di vivere inautenticamente oppure sarebbe come dire che colui che è felice ha scelto di essere felice e colui che non lo è ha scelto di non esserlo colui che è timido ha scelto di essere timido colui che è arrogante ha scelto di essere arrogante non sono delle scelte ci sono dei condizionamenti il libero arbitrio sarebbe un qualcosa che esula da cause precedenti può esistere un qualcosa che non dipende da niente è un concetto contraddittorio penso che il libero arbitrio non esista ma non abbia neanche senso come concetto perché un qualcosa che non dipende da niente è il caso è in quel caso il caso che il libero arbitrio sarebbe il libero arbitrio non può esistere secondo me e allora che senso ha parlare di tutto questo? ha senso perché parlare di questi concetti come sto facendo io ad esempio che cos'è la libertà più importante di cui nessuno parla quello che ho cercato a dirvi in questo video questi concetti ascoltati da altri sono variabili che si mescolano alle altre variabili e quindi possono poi determinare dei cambiamenti semplicemente se qualcuno ascoltando le mie parole poi capisce meglio cos'è la libertà e va verso la direzione della libertà se ci riesce non è perché l'ha scelto questa variabile nel calderone delle variabili l'ha portato a ciò quindi è comunque importante e utile parlare di ciò spingendomi oltre potrei dire che addirittura quello che sto dicendo ora non è figlio del libero arbitrio ma questo non toglie che sia importante dirlo così come il fatto che io mi stia chiedendo ma è importante dirlo anche quello che sto dicendo non è figlio del libero arbitrio anche questa considerazione nella considerazione anche questa non è figlia del libero arbitrio ma non libero arbitrio non vuol dire mancanza di libero arbitrio non vuol dire che le cose siano statiche non c'è libero arbitrio quindi io non potrò mai cambiare no libero arbitrio non vuol dire che non si può cambiare libero arbitrio vuol dire che anche se cambi è assurdo parlare di libero arbitrio c'è comunque un condizionamento che sono tra l'altro tanti condizionamenti e al massimo la mancanza del libero arbitrio può far dire che non esistono meriti o colpe quindi anche quando si parla di bravi o cattive persone non è che se una brava persona ha un merito però la condizione più elogiabile è più fortunata però non vorrei aggiungere troppa carne al fuoco altrimenti partiamo da un argomento e finiamo a parlare di altro anche se insomma poi tutto è collegato mi fermo qui però oggi condividete se vi è piaciuto questo mio video sul 25 aprile mettete un pollice in su se vi è piaciuto e volete supportarmi anche economicamente potete fare una donazione singola mediante Paypal trovate tutto in descrizione nel primo commento o se volete aiutarmi mensilmente c'è il Patreon oppure tasto abbonati c'è anche Libane per la donazione singola ciao a tutti un abbraccio il pollice in su però mettetelo indipendentemente da donazioni o meno pollice in su è un grande aiuto